Covid a Grosseto, effetti socio-economici e demografici sulla rete territoriale, con particolare riguardo al settore del turismo. La Fondazione Polo Universitario Grossetano e il Comune di Grosseto hanno promosso un'indagine sulla presenza turistica nel Comune proprio durante il Covid. Insomma, il principio è dal negativo ottenere il positivo. Noi abbiamo avviato questa ricerca di cui veramente sono molto orgoglioso, intanto perché contribuire a sostenere la ricerca in Italia la ritengo essere un elemento strategico e quindi anche le pubbliche amministrazioni hanno il dovere e il compito di rafforzare la ricerca e supportarsi anche con dei dati scientifici nelle loro azioni. Dobbiamo avere un'idea chiara di quello che è stato per poter fare delle scelte per il futuro ancora più positive, più costruttive e più forti. Ricerca condotta dai Dipartimenti di Scienze Politiche Internazionali e di Giurisprudenza dell'Università di Siena. Quali sono le aree che saranno indagate? Ricettività alberghiera in senso ampio, ristorazione e ricettività museale. Stiamo iniziando a raccogliere i dati che dovranno essere analizzati sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista qualitativo e relazionale direi anche. È una ricerca pura, è una ricerca vera. Un progetto estremamente interessante che il Polo Universitario Grossetano vorrà poi estendere anche al resto dei comuni della provincia di Grossetano. Un progetto pilota e credo potrebbe essere modellizzato che avrà poi un riscontro pubblico perché dobbiamo ripensare ai modelli che abbiamo in testa e che forse non funzionano.